Lo S.H.I.E.L.D. ha scoperto che l'A.I.M. possiede una lista di possibili rischi per la sicurezza. Persone e cose che Monica tiene d'occhio? Sicuramente tiene l'A.I.M. su. ...da una squadra d'assalto orbitale. L'A.I.M. ha dato fuoco al centro dati e a tutto quello che c'era intorno. E sono pronti a farlo ancora. Per i miei agenti è troppo pericoloso. Serio? Nessun problema, comandante. Per i miei agenti. Nonostante gli incendi, ci sono ancora delle forze A.I.M. in zona. Ovviamente. All'A.I.M. non importa dei propri agenti. A te sì. I guerrieri non sono sacrificabili. Quello sì che è un incendio. L'A.I.M. è stata scrupolosa. Trionferemo! Fate fuori questi tizi. D'accordo? Sì. 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 La tua battaglia finisce lì. Prego tu il beat! Anche il tempo vi impedisce! Per la... È ora di una bella sfida! Procedete verso il centro dati. Le notizie dell'AIM sanno che siamo qui. Ancora nulla. Sembra che per una volta la fortuna sia dalla nostra. Le ultime parole famose. Avanti! Non hanno speranza! Sembra che anche l'AIM faccia sul serio. Facciamoli fuori. Mi serve assistenza! Sono qui per aiutare. Grazie. L'AIM! Un'altra! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.